Finalmente ce l'abbiamo fatta la missione è finita si è stata più difficile del previsto ma ora finalmente potrò tornare a casa La ricompensa della missione d'altronde è stata esattamente questa porta no? E forse voi vi state ancora chiedendo perché sto trattando questa porta come se fosse casa mia Il motivo in realtà è molto semplice casa mia è all'interno di questa porta ed è arrivato il momento di raggiungerla Ehi salve a tutti blazers avete ricevuto tantissime mancia natale non sapete che cosa farvene? Potreste sperperarle sul nuovo merchandising della blazecraft 0 trovate il link dello shop sotto in descrizione nel commento pinnato e anche nelle schede del video se cliccate qui a lato Ora si che sono tornato a casa questa è casa mia Visto che sono un avventuriero ho deciso di prendere un piccolo lotto in una dimensione tutta mia e Già infatti Giuliano è vero da quant'è che mi state aspettando voi due? Ehi ce n'hai messo di tempo Eren dove eri finito? Guarda un po' che si rivede Wiff Potevi anche fare un po' prima sai? Qui dentro non ci sono tutti questi svaghi ci stavamo annoiando un sacco Wiff Eh ragazzi scusate ma sapete com'è? Non avevo i soldi per ritrovare le porte che servivano a tornare nella dimensione quindi ho dovuto fare qualche missione con la gilda è stato più lungo dal previsto ma ce l'ho fatta sono tornato Spero almeno tu abbia trovato qualcosa di interessante nelle tue missioni altrimenti sarebbe un po' una delusione meo E spero anche tu abbia un bel po' di porte questa volta visto che l'ultima volta hai perso l'accesso Wiff Ehi si si tranquillo ho trovato cose interessanti e ho un sacco di porte quindi non vi preoccupate Ed effettivamente ho un bel po' di porte ne ho altre 63 sono esattamente questa porta qui quella che ho piazzata dovete sapere che questa porta ci permette di piazzare un ingresso alla mia dimensione personale Lo posso piazzare in qualsiasi bioma da qualsiasi punto mettere più di un accesso lo potremmo mettere anche in altre dimensioni Quindi come sapete io sono un avventuriero e la base craft è una serie dove esploreremo davvero un sacco quindi mi serviva una diciamo casa Sì perché devo comunque piazzare le mie farm e le mie cose che tra l'altro come vedete ho già costruito questa volta non mi sono fatto trovare in preparato Ma ho bisogno di essere anche un nomade quindi che cosa c'è di meglio di una dimensione in cui però possiamo accedere da qualsiasi punto Basta avere le porte e ora noi le porte le abbiamo quindi ci porteremo la nostra dimensione la nostra casa praticamente ovunque Sarà davvero una rivoluzione una grande comodità ma ora direi che vi faccio anche vedere un pochettino di cose Oltretutto si dà il caso che io abbia anche questo simbolo che è molto misterioso e quindi ho sì dei tesori interessanti E mi sto chiedendo perché è già fatto se mi so produrre queste palle di pelo potresti smetterla di sporcare tutto quanto Comunque ragazzi vi faccio un po' vedere la mia dimensione perché magari qualcuno di voi non sa dove ci troviamo Siamo davvero in un'altra dimensione non è l'overworld siamo da tutt'altra parte Questa dimensione è molto piccola è più o meno un cubo di 35 blocchi ma come vedete ci sta una casa davvero grandissima E ora ve la farò vedere anche internamente ci stanno le mie farm che intanto sono cresciute del tutto Quindi abbiamo una bella scorta di cibo per fortuna tutti i miei animali il mio albero sacro con la sua pozza d'acqua E poi abbiamo anche un ampio magazzino che mi servirà per introdurre tutti gli oggetti Così la parte noiosa diciamo la parte vanilla l'abbiamo già sistemata perché io ho già la mia casa Quindi potremmo dedicarci sin da subito ad esplorare a collezionare le cose delle mod Ad ampliare i nostri oggetti a potenziarci le armature eccetera eccetera Ragazzi vi faccio vedere un attimo la casa e poi sistemiamo l'inventario perché ce n'è bisogno La mia casetta è una casa molto particolare perché l'ingresso ci porta su una scalinata Dobbiamo salire 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 e andiamo nella zona che potrei definire living C'è una sorta di salottino molto carino con qualche reperto cose navali perché sapete che mi piacciono le navi ovviamente E c'è anche una piccola cucina che in realtà è abbastanza spaziosa per cucinarmi le cibarie E poi se andiamo al piano di sopra che cosa c'è? C'è un mega armadione gigante E c'è il bagno è un po' scomodo raggiungerlo però la casa è costruita in verticale quindi questo passa il convento Ok abbiamo l'indispensabile una vasca in cui potremmo anche fare delle intro volendo Abbiamo la doccia il water insomma le cose per fare le cosacce E salendo quest'altra scala arriviamo in una piccola ma graziosa camera da letto Che è più grande della mia camera nella gilda e c'è un pipistrello Ora sappiate che la casa non sarà utilizzata tantissimo di per sé Quanto io definisco casa l'intera dimensione in cui ci troviamo Perché ho già fatto la smetti di produrre palle di pelo e ho rotto le palle di pelo Perché è libera dei mob è tranquilla è nostra è tutto pacifico Abbiamo le nostre farm e ho il magazzino esterno quindi ci muoveremo un po' in tutto il cubo in realtà E direi appunto per prima cosa di svuotare zaino inventario e di iniziare ad organizzarci con il magazzino qui Perché non voglio finire ad avere 3000 oggetti in giro come al solito Questa volta ordine sarà la parola d'ordine Bene ragazzi ho organizzato un pochino il magazzino per ora Quindi ho diviso in varie categorie le cose Importante è notare che ho lasciato metà porte al sicuro qui dentro che non si sa mai E soprattutto questo strano simbolo l'ho voluto lasciare nella cesta Ho paura portarmelo appresso è più sicuro qui perché non può entrarci nessun altro se non io E già ho fatto Giuliano ovviamente Quindi per ora lo terremo qui al sicuro Ora prima di continuare a fare qualsiasi cosa devo recuperare il grano E direi di andare a prendere tutto il grano che intanto è cresciuto qui Quindi ci facciamo una bella scorta di grano per l'appunto E poi possiamo partire Cioè ci facciamo il pane e tutto ripiantiamo e poi possiamo tornare all'azione e ripartire Ok abbiamo un bel po' di pane ora E se non erro Sì l'avevo lasciato qui a smeltare del ferro Quindi andiamoci a prendere tutto questo bellissimo ferro E mi ha sbloccato avete visto all'esperienza Era tipo morta la barra era buggata Adesso che ho raccolto il ferro siamo a 11 Non è che ho fatto 11 l'esperienza ora Si è sbuggata perché tipo non era visualizzata Cose da cambio di dimensione Baggettini da dimensione insomma Ora devo assolutamente farmi qualche attrezzo extra qui Quindi prendiamoci gli stick e recuperiamo il legno che già ho Quindi facciamo così E andiamo a farci direi una pala e un paio di picconi Quindi fai 1, 2 e 3 Confermiamo tutto Possiamo mettere via questo Che palle che giro tutti lì in frame Mettili a posto E si questo lo possiamo togliere Questo lo possiamo togliere E questo pure lo possiamo togliere Ok ragazzi a questo punto Io direi che siamo davvero pronti Torniamo nel mondo reale Ciao Gianfatto ciao Giuliano E partiamo un po' con l'esplorazione Perché abbiamo un sacco bisogno di potenziarci In vista della prossima missione con la Gilda Ed eccoci tornati nella nostra stanza nella Gilda Alcuni mi hanno detto Ma Eren la Gilda da dove viene? E' una cosa di Fairy Tail E' una cosa di Goblin qualcosa Ehm no E' una Gilda Cioè le Gilde esistevano una volta Non c'è nessuna ispirazione E' una semplice Gilda ragazzi Fidatevi Mi avete citato delle opere che neanche avevo mai sentito Fairy Tail lo conosco eh per carità Altre cose non avevo mai sentito Comunque ragazzi Detto ciò Ho intenzione di cercarmi una caverna E di provare ad andare sotto terra Allora Lì c'è uno scheletro di giorno E' rimasto all'ombra degli alberi A quanto Pare Cos'è Cosa Cosa Cazzo Cos'è Oni Oni ma me coglioni Non Oni Cos'è quel co... Spai che mi sto perdendo Intanto è un casino Ragazzi sembra Un coniglio clown Bruttissimo Inquietante Un botto Stammi lontano Ma pure le poppe Ragazzi hanno le poppe sti cosi Hanno le... Ma vedi le poppe Ma statemi lontani Allora proviamo a colpirli bene Con la spada Che ci permette di comboarli un po' Aia Aia Fanno malissimo Fanno malissimo Potete morire Gentilmente Ok Ok Uno giù E due sono giù Ragazzi ma che diamine erano sti cosi Ok voi mi potreste dire Ere Cosa lo chiedi a fare Noi le hai fatto tell mod Perché Avete ragionissimo Però Vi giuro che Più si esplora Più si scoprono mostre e cose Cioè ci sono dei mostri che Non avevo neanche mai visto nei test Praticamente Ora Qui c'è una caverna Mi sa È il caso di scendere Io direi di sì Quali mostri si potrebbero nascondere Ragni Ragni Madre con ragnetti sopra Ok Iniziamo molto molto male Però Dobbiamo eliminarlo Se vogliamo andare avanti Oddio 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 Morite tutti Ehi Qualcuno si è appena accorto Che la luminosità Non era ancora settata Al massimo Esatto Bravo Eren Allora che cosa abbiamo qui Ferro Semplicemente ferro Incassonato in una pietra Diversa Che è La black granite Il granito nero Bene Molto carino Qui abbiamo del semplice rame E ragazzi Sì posso anche raccoglierlo Ma la verità È che non è Il caso Non ha senso Perdere tempo Con questi materiali Noi dobbiamo Andare in profondità E puntare alle cose toste Ci dobbiamo Armare di brutto In modo da affrontare Le prossime missioni Perché Potremmo fare delle cose Davvero disarmanti E qui si scende Credo Sì Non abbastanza però Quindi proverò a scavare Alla vecchia maniera Utilizziamo un po' La minimappa Anche perché Ragazzi Laggiù vedo Uno strano Spazio C'è una caverna gigantesca E questo è un mega chunk Di carbone No È quarzo nero Oh il quarzo nero top Fammelo prendere tutto Ragazzi io Ho scavato e Mi sono Ritrovato qui dentro Cosa sono quei cristalli luminosi Ma che figata Allora aspetta Prova A minarlo Abbiamo ottenuto Light blue crystal shard Ok Questa cosa mi sembra Figa Un botto Allora Piazziamo qualche torcia Queste sono ossa Giusto Sì vabbè Abbastanza Inutile anche come roba E questo Credo che sia sempre ferro Ok Ma quei cristalli lì Mi interessano Particolarmente Li vorrei raccogliere Per poterli Studiare Non si sa mai che Magari si Rivelino delle cose Super rare Super utili Quindi prendiamoli tutti quanti Molto interessante Ragazzi Vediamo di Studiarli per bene Questi Ma al momento Voglio continuare a scendere Quindi Proviamo a raggiungere Profondità maggiori Siamo già a 20 Quindi siamo molto in profondità Dobbiamo solo Azzeccare L'ingresso di una caverna E poi potremo trovare Diamanti E chissà quali altri Materiali rari Intanto anche le pietre normali Possono spunare i nugget Non so se avete notato È una cosa molto utile E qui abbiamo Dell'apis Ehm Penso di aver trovato Un dungeon Ragazzi Non so se è una buona cosa Sinceramente Hello Oh shit Merda 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 Ok ce l'ho fatta A chiudermi in qualche modo Ok Però ragazzi Che diamine erano Quei cosi Perché ci sono Degli zombie Incazzati neri E perché le mie protezioni Non bastano a niente Oltretutto Senti un po' Dobbiamo liberare un po' L'inventario qua Perché non abbiamo spazio Per niente Dobbiamo togliere Le torce Dalla seconda mano Perché per quanto Siano utilissime Mi impediscono Di piazzare Come si deve I blocchi Ora se io qui spacco Posso provare Ad uccidere Quello zombie Che erano zombie Normalissimi in realtà Qui abbiamo un Gust pet Che Cosa fa Spara Fireball Ok Lo voglio provare subito Aspetta un attimo C'è ancora Qualche altro zombie Per caso Sì Eccolo Salve Bello Bellissimo Merda però Mi sono dato fuoco da solo Ragazzi Mi sono dato fuoco da solo Io ho capito solo una cosa Se me ne vado È meglio Qui sotto c'è un'altra caverna Mi ci vorrei collegare E spero Spero tantissimo Di trovare qualche Minerale interessante Perché così Non si può andare avanti Ok Siamo arrivati in una caverna A quanto pare Eh vabbè Ti pareva Sto scavando Nelle caverne Quindi sì Che cos'è questo minerale Fatemi vedere un po' Abbiamo trovato Dello stagno Ok Vabbè Questo ce lo prendiamo Che magari Possiamo craftarci qualcosa di fico Poi Qui abbiamo Del semplice carbone Ce n'è altro qui Ma tipo del diamante È chiedere troppo Per caso Ho un Treasure slime È uno slime Che contiene un tesoro Sembrerebbe essere Un biscotto Quindi Uccidiamolo Dovrebbe Dropparmi Dei biscotti Alla fin fine Giusto È così che funziona Sì Che bello Biscotti per tutti Non è proprio il tesoro Che volevo Però Qui dietro ragazzi Anzi Tutto attorno a me Ci sono Un sacco di stanze Vorrei provare Ad entrare E vedere se riusciamo A rubare qualcosa Oh yes Molto interessante Ci sono anche blocchi Del nether Qui Ma che figata Ok Ci sono dei blaze Ok Signori blaze Non credo che Mi stiate guardando Con piacere Come vostro simile Quindi me ne vado Qui c'entra anche Dell'acqua Io sono sicuro Che qui sotto Ci siano dei tesori Davvero incredibili Se solo riuscissimo A prenderli In sicurezza Raga Io vedo un sacco di zombie Potrebbe essere una follia Ma io la voglio tentare Oh mio dio Quanta roba c'è Eh Sì Sì Ok È stata una follia Effettivamente Dobbiamo correre Ok 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 Scitterini Scitterini Perché mi trovo sempre a scappare Ok Mi sono chiuso qui Dove c'è una cesta Mangiato Abbiamo mangiato Ok Diamanti Molto bene Un piccolo integro Poteva andare peggio ragazzi Poteva andare peggio Protezione 4 Questa mi piace un sacco Ok Prendiamo Questa roba Prendiamo anche questo Tanto è il mio È ormai andato E niente Liberiamo un po' Lo zaino Metti via un attimo Queste cose E prendi Anche Questi diamanti Ora ragazzi Io Valuterei Velocemente Se è il caso Di proseguire Probabilmente Mi sa che Trovate i primi diamanti Faremo un bel Waypoint E ce ne andiamo a casa Sì sì Mi sa proprio di sì Ah sì 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 Certo 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 Vattene via Salve Una volta ero un avventuriero E poi mi sono buscato Una freccia in testa Comunque questo È la fine del video Ci vediamo Nella prossima puntata A casa E vediamo di craftare qualcosa Perché così Non ci siamo proprio